L'aula magna del polo didattico Paolo Volponi ha aperto il sipario questa mattina sulla cerimonia di inaugurazione del 518esimo anno accademico dell'Università di Urbino. Un benvenuto ai neostudenti urbinati ancora più speciale perché accompagnato dalla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Questa è un'università che tutti noi portiamo nel cuore, è un'università circondata dalla bellezza, un'università comunità, un'università che trae la sua spinta e la sua forza da un rinascimento che in questa università non finisce mai. Quindi grande tradizione, grande storia, grande bellezza ma anche grande capacità di innovazione. Un passaggio formale ma in qualche modo ci permette sempre di fare il punto sulla situazione anche dell'Università, anche in un contesto quello che ho chiamato di rendicontazione pubblica. In fondo siamo un ente di formazione che ha anche un ruolo economico importante per il territorio, quindi spiegare anche a chi non tutti i giorni ha dei contatti con l'Ateneo cosa stiamo facendo e cosa pensiamo di fare per il futuro, per le studentesse e gli studenti ma anche per il territorio. Nell'occasione il ministro Bernini ha sottolineato quanto l'azione di governo stia investendo sull'università italiana. E per quanto riguarda il diritto allo studio, che è il modo vero perché lo studio sia un diritto e non un privilegio, abbiamo messo quest'anno, nel 2024, quasi 900 milioni sulle borse di studio e abbiamo proprio due giorni fa pubblicato il bando housing per 1 miliardo e 200 milioni. Quindi diciamo che di povertà di fondi magari è meglio parlare in un altro momento perché adesso i fondi ci sono. Anna Maria Bernini ha messo nell'ultimo periodo un'attenzione particolare a questo tema delle residenze oltre che delle borse di studio e quindi in effetti è riuscita a trovare eppure anche in situazioni che insomma non sono facili perché insomma i fondi ci sono ma poi devono essere anche spesi di trovare il modo come spenderli in modo efficace. Fra i tanti interventi della mattinata anche l'Alexio Magistralis di Lino Leonardi, professore di filologia e linguistica romanza, alla normale di Pisa. Leonardi si è soffermato sul tema razza pre-storia di una parola disumana. L'origine prima del termine razza è nei vocabolari correnti fino quindi a Google, a quello che noi consultiamo normalmente è data come incerta mentre invece è stato dimostrato negli anni che la sua origine è quella da un termine francese che indica proprio l'allevamento dei cavalli quindi è un termine che in origine non era attribuito all'uomo, era proprio soltanto degli animali coincidendo quindi con quelle che sono le ultime conclusioni che ormai da tempo ha raggiunto la ricerca biomedica e cioè che il concetto di razza non è proprio applicabile alla specie umana.